Papa Francesco ha ricevuto in udienza nel Palazzo Apostolico il Presidente della Repubblica di Malta, il signor George Abela. Si sono svolti i colloqui in un clima cordiale, sono state ricordate le tracce del cristianesimo nella storia, nella cultura, nella vita del popolo maltese, come pure le buone relazioni tra la Santa Sede e Malta, evocando le visite pastorali compiute dal Beato Giovanni Paolo II e da Benedetto XVI. Si è fatto riferimento all'apporto della Chiesa Cattolica in campo educativo e assistenziale, come pure agli accordi conclusi tra Santa Sede e Malta, per una proficua cooperazione a servizio del bene comune. Ci si è soffermati poi sul contributo di Malta all'interno dell'Unione Europea, come pure su alcune situazioni della Regione del Mediterraneo, nonché sul fenomeno delle migrazioni verso l'Europa, che vede impegnati la Chiesa e il Governo.